Nel 2011 l'Ufficio del Difensore Civico Regionale ha aperto 1208 pratiche a seguito di segnalazioni avanzate da cittadini, associazioni e imprese per ottenere dalla pubblica amministrazione quanto spetta loro di diritto. Il bilancio di attività, illustrato dalla relazione annuale stilata dal Difensore Civico Antonio Caputo, evidenzia che il maggior numero di richieste ed intervento riguarda il delicato settore dei servizi alla persona, della previdenza sociale e dell'assistenza pubblica.